bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite parleremo del pack di salva al mondo in arrivo vedremo delle immagini di capitana america ma ci sono anche dei misteri in mappa e un grande spoiler della mappa alla fase finale che voglio farvi vedere prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi ed è proprio il pack di salva al mondo ci sono delle cose da dire innanzitutto ieri pomeriggio è arrivato per tutti gli utenti che non avevano la versione definitiva la deluxe a 100 e rotti euro in poche parole è stato possibile acquistarlo in nuova zelanda il che vuol dire che indicativamente questo pomeriggio alla peggio domani lo avremo anche noi in italia 20 euro il prezzo di questo bundle che contiene l'orsetto di metallo che potremo utilizzare sia su salva al mondo che sul battle royale mille v bucks il backpack che è il fiocco colorato bianco giallo e nero un'arma da utilizzare il suo salva al mondo che è il papa orso e salva al mondo problema problema per tutti quelli che otterranno salva al mondo acquistando questo bundle la versione di save the world non vi darà v bucks quindi è veramente un peccato perché attualmente non è possibile acquistare salva al mondo con i v bucks garantiti in base agli accessi e alle challenge staremo a vedere se magari sotto il compleno di fortnite lo rimetteranno andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ve lo ricordate questo post forse no intorniamo indietro al 28 aprile vi avevo fatto un video dove fortnite aveva annunciato il concorso disegna il tuo spray potrebbe essere messo in game e ovviamente vincere dei premi lo spray è stato fatto ragazzi un ragazzo ha vinto ed eccolo qua volevano uno spray che caratterizzasse la season 2 ora non ricordo bene tutti i dettagli ha vinto questo miascolo versione ombre seduto sopra una cassa molto arrabbiato appunto si capisce perché il miascolo il ragazzo si chiama gun head e loro gli hanno scritto their miascolo tribute is perfection prestarebbe le fusa del gatto quindi tanti complimenti a questo ragazzo per aver disegnato uno spray che molto probabilmente avremo in game gratuitamente non si sa però ancora quando e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbada bam questa ragazzi non è un fotomontaggio questa è la mappa che vedremo alla fine di questa season della season 3 di fortnite come vedete io dico meravigliosa l'acqua torna a livelli normalissimi le terre emerse sono tutte perfettamente bilanciate un sacco di location e ancora tantissimo spazio per le location che arriveranno nelle prossime season il ragazzo era da ps4 aprendo la minimappa ha ricevuto questo bug ha fatto subito lo screen per fortuna riusciamo anche a vedere una cosa molto interessante quella che vi voglio zoomare in alto a sinistra stiamo parlando ragazzi della location che sarà molto probabilmente dedicata ad aquaman come vedete la forma è molto simile a quella che vi ho fatto vedere qualche giorno fa nel bug visivo che alcuni utenti hanno ottenuto quando erano sull'autobus si vedevano le rovine perché si chiamerà così la location di aquaman e come sappiamo sarà caratterizzata da tanti punti interessanti il sand castle ci sarà un mega castello di sabbia ci sarà la testa di una donna ci saranno dei tempi dei giardini questa variante secondo me è già la finale quindi potrebbe succedere qualcosa che noi non sappiamo ancora credo che scopriremo delle informazioni relative ad aquaman e alla storyline dedicata a lui solamente dopo la quinta settimana quindi circa a metà season e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbaba il signor capitan america sta arrivando su fortnite nel mio video di ieri vi avevo già parlato di alcune notizie lo scudo le texture questa immagine io vi dico prendetela con le pinze potrebbe essere lei non ne abbiamo idea però diciamo che la sagoma è molto simile a quelle criptate che vi ho fatto vedere ieri tra l'altro ragazzi abbiamo invece un'altra immagine molto curiosa ma purtroppo sfocata perché arriva chissà da dove ma si conferma essere qualcuno di molto vicino al team di epi games e appunto arriva anche una data di uscita con le informazioni che abbiamo capitano america e il suo set verranno rilasciati nello shop il 2 luglio ma non oggi ragazzi nello shop di domani perché per noi sarà lo shop del 3 luglio quindi molto probabilmente arriverà il suo set vi ricordo la skin e poi il backpack che farà anche da piccone quindi lo scudo di capitano america un'altra cosa curiosa ragazzi sono dei file audio che voglio farvi ascoltare e che sono relativi proprio a capitano america potrebbe per quanto ne sappiamo arrivare anche magari una ltm dedicata o qualcosa in game ascoltiamoli insieme sono dei suoni molto particolari perché sembrano quasi dei razzetti e il che ci potrebbe stare perché ci avviciniamo al 4 luglio l'indipendenza americana la skin di capitano america insomma secondo me è qualcosa che sicuramente avrà a che fare lo scopriremo solo vivendo e andiamo avanti a parlare al prossimo argomento di oggi perché ci sono degli anelli misteriosi sparsi per la mappa sono dei blue ring quindi anelli blu che non appena ci si avvicina iniziano a roteare su loro stessi e a girare all'impazzata questi anelli in realtà non sappiamo bene quale sia la loro funzione in game sappiamo però che nelle sfide della settimana numero 4 ce ne sarà una che ci chiederà di recuperarli per tutti quelli che volessero degli anticipi ecco l'elenco di tutti gli anelli presenti su fortnite quindi ne abbiamo molti a lazy lake altri li abbiamo a parco pacifico gli ultimi li abbiamo a steamy stacks ovviamente poi preparerò i video tutorial quando sarà il momento di fare le sfide c'è da chiederci se gli anelli rimarranno in game oppure se ne andranno poi con il termine della season e semplicemente sono stati messi per una challenge che è comunque molto particolare andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per chi non lo sapesse nello store di epic games ancora per oggi ci sono due videogiochi totalmente gratuiti il primo ragazzi è air memories of old e il secondo è stranger things 3 the game quindi affrettatevi se volete provare a giocare a qualcosa di diverso senza spendere niente andate nello store cercateli scaricateli e ringraziamo come sempre epic games per farci questi regali assolutamente graditi dovremmo essere arrivati all'ultimo argomento di oggi essi ragazzi perché quella invece che state vedendo adesso è la fase successiva della mappa quindi in poche parole ieri il livello dell'acqua si è notevolmente abbassato hanno cominciato a fuori uscire dall'acqua dei tetti delle fabbriche ad esempio a moli molesti molti edifici sono riemersi tipo la grande casa di foresta frignante e tanto altro ma sappiamo ragazzi che il prossimo abbassamento del livello dell'acqua arriverà l'11 luglio quindi abbiamo ancora qualche giorno una decina di giorni di attesa per vedere la sesta fase delle acque insomma ragazzi tante news anche oggi su fortnite tanta roba da sapere io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao